La musica d'organo è entrata nella Basilica di San Domenico per il nuovo appuntamento dell'Alezzo Organ Festival. La Basilica di San Domenico ad Arezzo ha davvero un fascino particolare, una location unica per i concerti, in particolare per la presenza del crocifisso di Cimabue, ma anche per la bellissima acustica. Nella splendida cornice della Basilica iscena un concerto, organo e due violini. Abbiamo il piacere di avere Paola Talamini, una brava organista della Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, musicologa, con un'attività notevole sia come concertista che come musicologa. Le due artiste sono le violiniste Francesca Balestri e Luisa Bassetto, ai violini. Insieme eseguiranno musiche di Vivaldi e di Mozart. La Basilica di San Domenico ad Arezzo